La Parma si gioca da 20 minuti e 0-0 tra Parma e Chievo al quattordicesimo minuto Emiliani pericolosi. Cross, bello perfetto di Antonio Cassano da sinistra per Amauri. Diviazione puntuale dell'attaccante italiano-crasiliano ma di conclusione imprecisa che è finita sul fondo. Attenzione però alla risposta di Chievo, siamo con Paloschi, la terza del nostro rigore. Il numero è il 17, Sargo, la conclusione di Sargo, la prima dell'area. Dievoli però è pronto l'intervento di Miran, risposta poi di un'altra occasione proprio per la formazione ospiti. Arminata da Becconi, c'è stata una giurata di Paloschi, di destra e di interna, giornata di Vigone, un pallone più poco. Adesso c'è il Parma di Manola, siamo alla chezza di Mariana Stagliana, siamo al 21esimo minuto, Parma a 0, chievo al salo studio.